Una bella notizia per tanti juventini, Locatelli in uscita, ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ, ebbene sì, il Marsiglia ha interesse per Locatelli e la Juve può cambiare idea, perché la Juventus all'inizio non aveva messo Locatelli tra i partenti, ma oggi l'offerta del Marsiglia fa tendennare la Juve, ma c'è un ostacolo chiamato Rabiot. Vi spiego tutti, amici bianconeri, chiariamo quello che sta succedendo, però prima, con la mia grammatica disgraziata, come la chiamo io, vi invito ad iscrivervi al canale, gratis, lasciate un like, commentate e attivate la campanellina, così non vi perderete mai un video e siamo sempre live, e signore e signori, i miei signori, quelli veri, quelli copi bianconeri della vecchia signora, rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Perché Rabiot è quello che oggi comanda i giochi? Per un semplice motivo. La Juve cerca ormai di portare a termine gli obiettivi, che sono Tiuram e Coppemenes. Mettendo Tiuram e Coppemenes dentro la rossa della Juve, come dire, nel blocco di centro cambisti, sicuramente due devono essere in partenza. Uno già è McKennie, uno deve essere tra Rabiot e Locatelli. Rabiot, ragazzi, non ha rinnovato il contratto con la Juve, ma è ancora in tempo per rinnovarlo. La Juve aspetta una risposta. Se Rabiot non rinnovasse il contratto, Locatelli difficilmente lascia la Juventus, tranne che il Marsiglia si presenta prepotentemente con 30 milioni di euro. Ma è una cifra spropositata, perciò la Juve cosa vuole fare? Se Rabiot non firma il contratto, la Juve si tiene Locatelli e va a fare il panchinaro, il quinto centrocampista. Perché il quinto centrocampista? Fermi. Douglas, Luiz, Tiuram, Coppemenes. Parliamo ovviamente di due obiettivi. Fagioli si deve aggiungere il quinto, che è tra Locatelli e Rabiot, mettendo fuori McKennie. E la Juve ovviamente sta aspettando da quello che fa Rabiot. Se Rabiot invece firma con la Juventus, la Juve non ha bisogno di andare a cercare un centrocampista fuori, ce l'ha in casa. Diventa Rabiot, firme il contratto e la Juve conclude il pacchetto centrocampisti, mettendo in vendita Locatelli, accontentandosi anche di una cifra inferiore che può andare tra i 15 e i 20 milioni di euro. Ma in un solo caso straordinario la Juve può vendere contemporaneamente Locatelli, McKennie e perdere Rabiot. Come? Tutto poi sta al Marsiglia. Se il Marsiglia fa una pazzia e mette sul tavolo della Juventus, sul tavolo della Continassa, 30 milioni di euro, onestamente la Juve si dice 30 milioni di euro, perdo Locatelli, 20 milioni di euro, perdo McKennie, risparmio i soldi di Rabiot che non rinnova e la Juve si trova con un gruzzoletto di quasi 50 milioni di euro tra soldi risparmiati del contratto e soldi dell'eccessione. E allora la Juve cosa fa a quel punto? Cerca il quinto centrocampista che non è più quasi un panchinaro ma un altro top. Però ragazzi, tutto sta al Marsiglia. Io vi dico la mia. Questo coso qui è da escludere. Difficilmente il Marsiglia offrirà 30 milioni di euro alla Juventus. Io penso che oggi il Marsiglia se offre, offre 15 barra 20 milioni. E la Juve con 15, 20 milioni e altri 15 vendi della cessione di McKennie non penso che la Juve vada ad investire su un altro giocatore. Proprio la pazzia la deve fare il Marsiglia mettendo tanti soldi sul tavolo. Poi ragazzi, le vie del calcio mercato sono veramente infinite, ma oggi l'unico che può decidere il futuro di Locatelli è proprio Adrian Rabiot. Se questo video è stato di vostro gradimento, amici bianconieri, condividetelo. Fatelo sapere a tutti quello che sta succedendo. Io tanto vi terrò aggiornati. Poi voglio sapere da voi se siete d'accordo sulla cessione di Locatelli. Siete d'accordo anche sul mio discorso. Ditemi la vostra. Like, commento e sempre campanellina. Fatelo, è gratis. Iscrivetevi al canale e sostenetemi. Fino alla fine. Forza Juventus. I minnevaio. O sabberica a tutti i picciotti. Ciao. Dimentico, sono fiero di essere terrone. Credetemi.